Mi chiamo Giuseppe Sanmarco, ho 34 anni e sono un istruttore di scia di snob. Il mio lavoro mi porta spesso in giro per il mondo. Dopotutto ho scelto un messiere in cui servono tante montagne e tante amiche. E nella mia terra, la campania, di questi elementi ce ne sono pochi. Beh, non siamo mica in Svizzera. Dalle mie parti però facciamo un ottimo caffè, una bevanda speciale che è capace di riportarmi a casa, alla mia infanzia, alle mie tradizioni, tra la mia famiglia, in un attimo. Il problema è che manca sempre qualcosa. Il problema è che manca sempre qualcosa. Manca la cremina preparata secondo la ricetta di mia nonna. La cremina che completa il caffè, donandole aroma, densità e fragranza. Ecco perché ho deciso di creare Gramma Coffee Cream. Le bustine sprigionano il sapore di una genovità antica, capace di farti sentire a casa anche a migliaia di chilometri di distanza. Gramma Coffee Cream è un omaggio ai miei ricordi, alla mia famiglia, all'impareggiabile gusto del vero caffè italiano. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti